Giappolovers Vi consiglio di iscrivervi al canale E di attirare la campanella E allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi In questo nuovo esaltante appuntamento di R-Type Funnel 2 Ok, quinto stage, quinta missione Immersione colonie cristalli giganti E vediamo un po' Che caspia sotto, tipo pallina tennis E vabbè, ha capito Ok, quinta missione Immersione colonie cristalli giganti Abbiamo un po' Di che caspita Oh, cazzo rogo, mi rimbalzano questi E schioppa, va E schioppa ancora Porca la miseria Ok, dammi qua Oppela, questo è diventato ancora più grosso Cazzarola Ok Ok E schioppa Ok, bene Eeeh Che caspita è questo Porca la miseria Cia boia Questi diventano grossi giganti Già lo sapevo Ah, però rimbalzo con quelle là Ok, bene Con quelle palli, tipo Meduse, palli da tennis Vengono rimbalzate Eeeh Vabbè Eeeh Sì E che caspita E vabbè Allora, vediamo un po' Mi pare un po' troppo Tranquilla questa zona Ecco infatti Ecco la ritorno Le palle meduse Beccata 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 Vai Ok Ok Poi vediamo un po' qui Vai così Andiamo a scoperti Al nostro amico Gigio Ok Bene così Dai e Gigio Sì, ancora Un missiletto Fatto fuori Ancora queste palle Meduse palle Basta Cazzarola Oh, è schioppato E prima un po' Riprendiamocelo va Dose 55.33 Bene Sta aumenta Eeeh Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che so questi Se fossero bombe No, ok Vieni Cazzo Giappo Gamer Bene Livello 3 C'è 3% 3.0 Tipo meteoriti Che cazzo Stanno Quelle colonne Ma che è Che è Boss fight Che cavolo Vediamo un po' Mi pare un po' Troppo tranquilla Questa come zona Mi sa che è Da boss fight Il meccanico Per bene Vai così Collai Peccati questi Così Tutti i pescetti Maledetti Eh sto Sto coso Metallico Tacci i vostri Vai Bene così Sì 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 Dami il trofeo Tira fuori il trofeo Quinta missione Andata Bene così Sì Il destino È nelle Nostre mani Mamma mia Ragazzi Mamma mia Mamma mia Incredibile Incredibile Bene così Bene così E allora Cari Giappoloverse Eccoci qua Nel menu Dei titoli Questo R-Type Final 2 E allora Anche questo Visio numero 5 Della serie Ovviamente termina qui Sperando Così Lasciarmi Più L'acqua Possibile Ovviamente Commentate Condividete con vostri amici Lungo e largo Seguite i vari social Vi prego come sempre Essere pagina facebook Twitter Instagram Canale Telegram Basquiere Giappogamer E mi trovate agevolmente In più Come sempre Vi consiglio anche Di iscrivervi al canale Se non lo siete Mila quando Iscrivetevi Attivate la campanella Per non perdere Nessun video In pubblicazione quotidiana E infine Vi ricordo Il mio blog Personali su Google Press Dove Di tanto in tanto Appena posso Scrivo news E rilassioni varie Sui giochi Che riesco a dare a termine Sul canale Lo potete seguire Al link Giappogamer.com .blog E allora Cari fan Cari iscritti Cari Giappolovers Io vi ringrazio Uno a uno Vi abbraccio forte Dal vostro Giappogamer Per il momento È tutto Matane E i prossimi Episodi .blog 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 .blog